Buongiorno, grazie Marco per aver letto questo passo e gloria a Dio per questo qui In questo momento vogliamo pregare, chiedere la benedizione del Signore sull'avventura, sull'ascolto della parola Signore, quale privilegio noi abbiamo di stare davanti alla Tua parola E come Tu ci hai nutriti, Signore, con la Tua presenza, mentre prendevamo il panno e il vino Dove, Signore, il Tuo corpo, il Tuo sangue, il Signore, noi attraverso il Tuo corpo e il Tuo sangue Noi veniamo guariti, noi veniamo risanati, veniamo rinfrancati, la nostra fede viene fortificata Ma, Signore, Tu hai messo la Tua parola, Signore, già hai dato la Tua parola Per nutrirci e per essere più forti e per conoscerti meglio, per vederti meglio con gli occhi della fede E ti prego che questa mattina, ognuno qui, ognuno che ascolta, apra, Signore, la propria mente, il proprio cuore Per grazia, Signore, e ricevono, e riceviamo, Signore, conoscenza La conoscenza che ci aumenta la fede, la fede che Tu già ci hai donato E in Cristo, noi ti chiediamo questo alla gloria del Padre Amen Amen, grazie Allora, vogliamo, Marco ha letto questo passo in Giovanni, Giovanni 1 E, faccio, ci ritorniamo qua, andiamo avanti Ecco, allora, c'è nessuno qui che piace la chimica, non vi sconvolgete Però vedete questo cerchio qui? Questo cerchio, ok, si chiama un anello benzenico Non vi preoccupate, ma sono questi 4 C, che sono 6 C, che sono venuti insieme E questa scoperta cambiò il mondo della chimica organica E questo fu scoperto da questo scienziato tedesco Che si chiamava Augusto Keckler E lui disse, spiegò, come misteriosamente, sovrannaturalmente E fece questa scoperta Lui è stato seduto sulla sua poltrona calda davanti a un fuoco In Belgio, era sera, e si addormentò E vide questo cerchio, un cerchio di fuoco Di un serpente che mordeva la coltrona E poi da lì divende in quest'idea questa chiarificazione Perché non è che l'uomo ha inventato questo Dio ha inventato questo L'uomo l'ha soltanto scoperto Di questa forma, di questo anello Che ha cambiato la chimica organica Ok Ora, oltre un secolo dopo Il professore, ricordatevi questo nome Gian Mottese, perché lo porterò, ne parlo alla fine Era un rinomato storico della chimica E professore della chimica E fece delle sue ricerche E lui pubblicò degli articoli E in questi articoli lui provò Che quel sogno di Keckler Non era esattamente così Perché questa struttura Era stata già scoperta prima Da altri scienziati E probabilmente Augusto Keckler Ha usato questa storia fantastica Per affermarsi in merito Come se il divino mi avesse dato Questa Viva dato questa cosa Ora, vero, non ho vero Non lo so Però Grandi idee Che cambiano il mondo Possono venire In mente agli uomini In molti strani C'è la figura di Isacco Newton Che stava sotto l'avro E gli cade la mela sulla testa Lì ha scoperto La legge della verità Ok Vero o no? Va bene Comunque Noi stiamo su Il tema Dei doni spirituali E sappiamo Che i doni spirituali Sono delle manifestazioni Dello Spirito Santo Che appaiono improvvisamente E vengono dati Per grazie di Dio Per il bene della Chiesa Per la sua prosperità E per la protezione Della Chiesa E se vi ricordate E che se stiamo studiando Anche nello studio Di Giovedì Che in primo Corinti Capisodio Sappiamo Che L'elenco dei doni Tre sono doni Che ci rivellano Delle cose Sovranaturali Tre doni Ci fanno fare Delle cose Straordinarie E tre doni Hanno a che fare Con parlare O dire Delle cose In un modo Sovranaturale E l'altro L'altro incontro Insieme Se vi ricordate Abbiamo iniziato Con la categoria Di rivelazione E la prima Abbiamo parlato Della parola Di sapienza E se vi ricordate Faccio un piccolo Dono Della sapienza È una rivelazione Dell'informazione Limitata Riguardo Cose del futuro Ok Il futuro Lo sa soltanto Dio ovviamente Ma lui ci dà Queste informazioni Per proteggere Mandare avanti E Benedire La Chiesa Non vogliamo Confondere Di nuovo Questo dono Con il dono Di profezia Del Nuovo Testamento Che ha a che fare Con L'edificazione Di conforto Per la Chiesa Ok Però Oggi vorrei parlare Del secondo dono Il secondo dono È Nella categoria Di rivelazione È La parola Di conoscenza Dunque Mentre la parola Di sapienza Aveva E ha a che fare Con cose Riguardo Il futuro La parola Di conoscenza Ha a che fare Con Fatti O avvenimenti Sia del passato O del presente Che in nessun modo Potevi conoscere Non potevi sapere Mi spiego? Dunque La parola Di sapienza Ha a che fare Con fatti Del futuro Rivelazione Che l'uomo Non poteva sapere La parola Di conoscenza Invece ha a che fare Con fatti E benediti Del passato Del presente O di una persona O di una situazione O di un evento Nel contesto Che ha detto Marco E vi ha Un coraggio A leggere Questo passo Giovanni Battista Aveva battezzato Gesù E Giovanni Battista Filippo Abbiamo parlato Con lui Di quello Che parlavano I profeti Ma Nataniele Gli dice Ma può forse Qualche cosa Buono Venire Da Nazare E in altre parole Dice Ma Da Nazare Perché Se vai In una scrittura Il Messia Non viene da Nazare Il Messia Viene da Bethlehem Infatti Gesù è nato A Bethlehem Però La famiglia Poi si è Trascrivita A Nazare E Filippo Dice Vieni Vieni Nataniele Ok va bene Allora Nataniele E Filippo Vanno incontro Gesù Ma ora Dico Gatti Nataniele Non ha mai conosciuto Gesù Cristo E Gesù Cristo Il Signore Lo vede E dice Ecco Un vero israelita Scusate In cui Non c'è frode Vuol dire Ecco Un vero israelita Che dice Le cose come sono Che è sincero In quello che lui Cerca In quello che Dici E Nataniele Per il giro E dice Ma come Mi conosci No Come Come sa In queste cose E Gesù Dice Prima che Filippo Ti chiamasse Quando eri Seduto sotto Quell'albero Di Fico Io li ho visti E lui Nataniele Dice Rami Maestro Tu sei Figlio di Dio Tu sei Il re Israele E lo seguì E Dunque Nataniele Capì Che c'era Qualche cosa Di divino In questo Profeta In questo Personaggio Perché Deve aver detto Delle cose Che non poteva sapere Come poteva sapere Queste cose Lo incontra Per la prima volta E gli dice Conosco il tuo cuore Conosco che sei serio Con quello che legge Che sei accurato Nella lettura E la parola Di Dio So che tu Non puoi essere Sviato Da un falso Messia E non so Io so Cosa hai detto A Filippo Pur non è semplice E io so Che tu hai Seduto Lì sotto Padre Ti dico anche Il nome Dell'altro No? Certo che Gesù sapeva Queste cose Perché Gesù È pienamente Dio È pienamente Uomo Ok? Ma Per un tempo Il figlio Di Dio Misse da parte Alcuni attributi Della sua divinità E operò Pienamente Nello spirito santo Camminò E operò Pienamente Nello spirito santo Gesù Cristo Non aveva bisogno Di doni spirituali Perché lui era Pieno Di spirito Noi invece Dobbiamo spesso Essere riempiti 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 Lui era pieno Dunque Non era un uomo Normale Che era bravo Verso Dio E Dio E quindi Dio Dobbiamo stare Attenti Però Ci sono Dei insegnamenti Dei principi Che impariamo Nel Nuovo Testamento E il messaggio Di oggi È che Una parola Di conoscenza Data Dallo Spirito Santo Stimola La fede In Gesù E per certo Cambierà Il percorso Della vita Di quella persona Quando Un dono Dello Spirito Santo Viene manifestato Che ti dà Una parola Di conoscenza Può cambiare Il percorso No può Cambierà Il percorso Della tua vita Ma non solo Quella tua Quella della Chiesa Aumentandosi Della tua E la loro fede E lo vediamo Quello che è successo Con Nataniel Perché sentendo Queste parole Di Gesù Questo mi conosce Lo seguì Abbiamo altri esempi Nella parola Di Dio Avanti Per fuori In Atti 9 Abbiamo l'esempio Di Anania E dice Ora A Damasco C'era un discevolo Di nome Anania E il Signore Gli disse In visione Anania Egli rispose Eccomi Signore E il Signore A lui Alza Va Nella strada Chiamata Direta Cerca in casa Di Giuda Uno di Tarso Chiamato Saulo Egli è in preghiera E ha una visione Ha visto in visione Un uomo Chiamato Anania Entrare E Imporgli le mani Perché Le pubbliche La vista Qui abbiamo Una parola Di conoscenza Conoscenza Data A questo discevolo Anania Anania Stava a Damasco A Damasco Era dove Paolo Stava andando Per Opera di Dio Suo Per Per Perseguitare I cristiani Ma lì Si fu preso La via Da Damasco Che non era Stava Seguendo Signore E Paolo Incontrò Il Signore E Paolo Stava lì A Damasco Però La visione La parola Di conoscenza Viene Anania E cosa dice Il Signore Per lui Gli dice Prima di tutto Cosa deve fare Gli dice Alzati Gli dice Dove andare Vai Nella strada Che si chiama Diritto Gli dà L'indirizzo Della strada Gli dice Quale casa E chi abitava In quella casa In quella casa C'è un uomo Che si chiama Lula E lì Troverai Uno di tazzo E lo sai Che sta facendo Quell'uno di tazzo Lui sta in prighiera E lo sai Che sta facendo In prighiera Sta avendo Una visione Sta avendo Una visione Di te Che tu Liberai E lo sai Che cosa farai Tu farai Imporrai le mani E Recomprie la vista Ora Tutti noi Conosciamo Paolo Ma non tutti Conosciamo L'amania E grazie a lui Che fu fedele Nel mettere in atto Quella parola Di conoscenza Perché Se non avesse fatto Quello Paolo Non avrebbe Recuperato la vista Paolo Non sarebbe Stato Battezzato Dallo Spirito Santo Noi Non avremmo Avuto Le epistole Non saremmo Qui A parlare Di Paolo E ciò Che il Signore Ha fatto Attraverso Paolo Facendo Di scrivere La maggior parte Del Nuovo Testamento Dunque Noi conosciamo Paolo Ma noi Non conosciamo Annelietto In quella parola Di conoscenza È stato Un strumento Per trasformare Il cristianesimo Dunque Una parola Di conoscenza Può cambiare Il percorso Nella tua vita Della Chiesa E della storia Della Chiesa Ok I doni Vanno Condivisi E applicati Qualunque dono Sia Nell'ultimo incontro Abbiamo parlato Del dono Di Cornelio Vi ricordate La stessa cosa Qui Questa volta La parola Di conoscenza Del Signore Era Manda degli uomini Dove Aiot Fa venire Una persona Si chiama Simone Anzi Si chiama Anche Sovranal Non nominato Pietro E lui È ospite In casa Aveva uno Che si chiama Simone E lo sai Che fa questo Simone Lui è un concettore Di verde E la sua casa È vicina al mare Praticamente Di doveva anche Poteva spiegare Anche La temperatura Tutti Può fare Ogni cosa Ma Parola di conoscenza Quando lo Spirito Santo Ce la dà E ce la darà Ti fa Vedere Un segmento Di una cosa Di una verità Sia del passato O del presente E va condivisa Ovviamente Va giudicata E va pregata Perché se il Signore Ce la dà C'è uno scopo Per questa cosa Paolo Davanti Per favore Un'altra parola Di conoscenza Data A Paolo C'erano 40 uomini Che avevano Fatto un voto Di non mangiare Non bere Finché Paolo Fosse morto Voleva uccidere E Paolo Doveva scappare Era sotto pressione E il Signore Gli si presenta E gli dice Fatti coraggio Perché com'è La sua testimonianza Di me a Così bisogna Che tu La regna Anche a Roma E Paolo Riuscì a Fuggire Vedi Quella parola Di conoscenza Quando il Signore Ti dice Una cosa Quello Ti stimola La fede Talmente forte Che qualunque Cosa succede Non ti importa Le persecuzioni Persone Che ti vogliono Uccidere Come fu Paolo Il pregiudizio Di un popolo Di una chiesa Di una denominazione Qualunque cosa Quando il Signore Ti dà Una parola Di conoscenza È uno strumento Dello spirito Per aumentare La tua fede La tua fede Per tenere forte E andare avanti In quello Che ti sta Chiamando Non so se Mi sto spiegando È una spinta Per tenere forte In quello Che lui Ti dice E cosa Devi fare E La parola Di conoscenza Va Applicata Applicata Quando farai Una cosa Che Dio Ti chiamano Ti costerà E tanti Forse Non comprenderanno Quella cosa Forse Come ho detto Ti verranno Contro Quella cosa Ma tu devi Spingere avanti E lo Spirito Santo È forte E grande Abbastanza Per darti Conforto Per Sollevarti Per darti Quella Forza Che è necessita Per Adempiere Quello Che Dio Ti dice Di fare Ok Io Di solito Non vorrei Faccio questo Però Vorrei dare Una testimonianza Se mi Permettete Ok Il professore Il professore Vodis Quello Che scrisse Quelle lettere Quelle Che fece Quelle pubblicazioni Su riviste scientifiche Era un mio professore Di chimica organica Negli Stati Uniti E il signore Lo usò In un modo potente Allora Io dovevo Studiare Finire questo corso Per entrare Nell'università Di chimica organica E avevo Un certo tempo Per finire Questi corsi E L'università Stava lontanissimo Da casa mia Era sette ore Ok Di viaggio Io dovevo Finire questo corso Con dei voti Dei buoni voti Ma Per Una serie Di ragioni Che mi pergoglio Di interdire Non riuscivo A prendere Quei voti Dovevo fare Quattro esami Prendere almeno Ottanta per cento Il primo Era Sessanta e sei Sessanta e sei Preso un voto Bassissimo Secondo esame Sessanta e sei Allora Per terzo esame Devo prendere Almeno Novanta per cento Certo Perché devo avere Almeno Ottanta per cento Perché se io Non riuscivo A prendere quel voto E Finire quel corso Come doveva Dovevo Non potevo Entrare Nella scuola Di chiropratica Dove dovevo andare E Tu dici Beh Potevi aspettare Dopo Non l'anno dopo Ma no Non volevo Perché avevano Aumentato Avevano fatto Un numero Di Aumentare Ancora di più Requisiti Per entrare Dovevo 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 Allora Arrivo All'ultimo Esame Sessantasei Per cento Sessanta Mi è crollato Il mondo Addosso Perché Tutto ciò Per cui speravo Non potevo Più Andare O Fare Non volevo Fare altri Quattro anni Di università Tutto qua Comunque Arrivo a casa Sto Tornando a casa E mi sentivo Provevo Che Convito I miei genitori Così Era Il giorno Prima della vigilia Di Natale Ero giù Ero a terra Uno dei momenti Più brutti Della mia vita Ero a terra Non sapevo Che direzione Prendere Avevo Fallito Fallito Il mio futuro Era nero E Mi viene Questo Questa parola Che dice Chiama D'arte Ruotesi E Chiedi Di farti fare Di ripetere L'anno Ripetere Il corso E fatti dare L'esame finale Prima Del fine Del corso In altre parole Se finiva Il giorno Io tre settimane Dovevo finire Dare L'ultimo esame È una cosa impossibile Non ti danno L'ultimo esame Di professore Chiamo Io lo chiamo Non so come Rimediato Il suo numero Telefonico È lontanissimo Dove stava Lo trovai Lo trovai A casa E Dico Tutto Ruotesi Non so se Si ricorda Ma io Devo Chiedere Una cosa Io Devo Ripetere Il suo Corso Ma mi Deve Dare L'esame Tre settimane Prima Che finisce Il corso Tutti gli altri Mi lo davano Un tempo Dopo Io Me lo davo Prima Ho detto Ok Mi si è Avetto Un mondo No? Allora Ritorno Carico Per fare Due miei esami 90% 95% No no Non prenderò Mai più 66% Allora Arriva il momento Di dare L'ultimo esame Su tre settimane E la scuola Sta per iniziare L'università Però io Sto in un altro posto E devo entrare Per quella data Vado all'ufficio Di Dr. Wores Dr. Wores Si ricorda Chi sei? Mario Freire Ti ricordi Che ti chiamai A Natale? No Non mi ricordo Come non ti ricordi? No? Siete lì Siete lì fuori Guarda Che era Un uomo Molto duro Era un cieco Che è uscito fuori Dalla Seconda guerra Un miliardo Una cosa Incredibile Allora Mi fece sedere fuori E io aspettai un'ora Così E mio cuore Allora Entro nel suo studio Che cosa vuoi? Guarda Tipo duro Si ricorda Che lei chiamai Che lei Mi feceva fare L'esame Tre settimane Prima Così Devo entrarmi All'università Di biblioteca E lui mi fece così E io Che tu dico questo? Dice Questo è il violino Più piccolo del mondo Smetti di piacere Piacere Guarda E' proprio senza pietà Lui Tira fuori Le sue carte 95 99 Sai mi dice Tu non devi fare L'esame Vai L'università Di Piero Neanche mi fece Fare l'esame Non finisci qui 6-7 anni dopo Stavo in Italia Avevo iniziato La mia attività E stavo aiutando Le persone Con la mia professione E dicevo Guarda Se non fosse stato A quel momento E non sarei qui E decisi Di scrivere una lettera D'Arto Bores Caro D'Arto Bores Io ho detto Ma questo sarà morto Perché era già anziano Sarà in pensione Si sarà trasferito Non lo so E ho detto Buttala là Scrivo una lettera Io soltanto Voglio ringraziarla Di nuovo Per quello che è successo Per quello che ha fatto per me Perché Quell'atto di bontà Che lei ha avuto Verso di me Mi ha permesso Adesso di aiutare persone E io quando aiuto le persone Ringrazio Dio Ringrazio Dio Anche per me Io ora sono in Italia E Volevo soltanto Ringraziarla No E ho detto Tanto questa lettera Non mi arriva Tanto questo sarà morto No Settimane dopo E ho la lettera E vedo Dago Gian Bortez Ma ha scritto No Non sono emails Questo è ancora Il tempo dove Leggeva Scrivano E leggo la lettera Io dice E lui scrive Io non so Chi sei Neanche mi ricordo di te Non so Come mai Ho potuto Fare una cosa Del genere Comunque Ti auguro Una buona vita Sono stato in Italia Mi hanno rubato Il portofogio A parlare Distinti Sono lui Era un tipo così Notato io Comunque Ok Comunque Una parola di conoscenza Può cambiare Il percorso Della vita E quella Stava una parola Di conoscenza Che il signore Mi ha dato Ok Se no Poteva essere qui O Adesso no Però Comincia a mettere I pezzi Guarda indietro E lì come il signore Del operato Comunque Ricordiamoci Quando è venuto Lo Spirito Santo Nel giorno di Pentecoste Incominciarono Delle manifestazioni Che alle persone Sembrano strane Lo Spirito Santo Non è qui Per visitarci Ma per vivere Dentro di noi E questo battesimo Dello Spirito Santo Ti apre questa porta A questo Questa dimensione E manifestazioni Segni Prodigi Dovrebbero essere Normali In una Chiesa Perché Per mezzo Della parola Di segni Prodigi La Chiesa Aumentava Il tempo Degli Apostoli Sapete Se noi Potessimo Prendere Una misura E dice Beh Questo è Il libro Degli Atti Quando fu scritto Gli Atti E qui c'è L'Apocalisse Noi stiamo Noi stiamo Molto più vicino Agli avvenimenti Dell'Apocalisse Che il libro Degli Atti Cari Suvelli e Sorelli E vedendo i segni Che stanno venendo Noi stiamo Andando verso Sempre gli ultimi tempi Ok E l'ultimo posto Dove tu Vuoi essere E nel mondo Tu non vuoi essere Vuoi essere Nella Chiesa Perché è Nella Chiesa Dove c'è La presenza Dello Spirito Santo di Dio Che ti nutre Ti protegge Ti assicura Ti dà Certezza Ti dà pace Ti dà doni Ti dà la parola Ti dà i sacramenti Ti dà ogni cosa E' lì Dove noi vogliamo essere E io Non riesco A capire Come persone Rifiutano Di tornare O saltano chiese O vengono una volta E non puoi avere A casa tua Quello che tu puoi avere In una comunità E' una persona Che è malnutrita Io sono 60 anni 61 anni Io non ho mai visto Una persona Malnutrita Fisicamente Stare bene E Negli anni Di ministerio Io non ho mai visto Mai visto Una persona Che ha lasciato O si allontano Dalla chiesa E dire Sono una spirituale Buona Posso ricevere Ma Dunque grazie a Dio Perché nella chiesa Nella comunità Abbiamo detto la parola Abbiamo la santa scena Abbiamo la comunione Abbiamo i doni Che il Signore ci dà Perché Dio avrà E ci può dare Una parola Di conoscenza Per noi Per te Che ci porterà A aumentare La fede E ci fa Tenere forti In quei momenti Di difficoltà Perché se il Signore Ti ha dato Quella parola Avrai cose Che ti vengono Contro Non ti devi Smuovere Vai avanti Se il Signore Ti rivela Qualche cosa Non lo tenere Per te stesso Condividolo Con il fratello Con le persone Sarà poi La chiesa giudicata Sarà la parola Di Dio Autenticata Ok Perché non dobbiamo Si può sbagliare Non avete paura Ok Nel Daniele Vi ci mette Una parola Di conoscenza Del nostro Signore E lui diventò Un apostolo Che ha predicato In India Che ha scritto Una Copia Si dice Del Vangelo Di Matteo Che è stato Tradotto In ebraico È stato Tradizione Dice che lui Ha predicato In Etiopia In Mesopotamia Nell'antico Iran Nella Turchia Armenia Quella parola Di conoscenza Dio lo usò Per chiamarlo Essere un apostolo Ma un ministero Per il mio Il mondo Cornelio Orpieto Recevete La parola Di conoscenza E anche Di sabienza E abbiamo Imparato di Dio Non ha riguardo I personali L'Evangelo È stato dato A tutti I gentili Ha detto La parola A tutti La grazia Annelia E Paolo Come abbiamo Letto Quella parola Di conoscenza Ha permesso Paolo Di andare avanti In quel suo Ministerio E abbiamo Libro degli Atti Che Ci testimonia Di quello Dunque Ricordiamoci Una parola Di conoscenza Che opera Nella mia vita Può cambiare La vita Di qualcuno E può cambiare Il mondo E concludo Che Come dice Paolo Desiderare Ardentemente L'amore Non Tralasciando Però Di necessitare I doni spirituali Amen Glorio Vogliamo concludere Il punto di oggi Pregato E Concentriamoci Su quello che ha detto Mario Questa mattina Una cosa importante Signore Dà dei doni Che sono Fondamentali Non per lo stesso Ma per le persone Ma per le persone Che sono A fianco a lui Per cui Io non ce l'antima a pregare Grazie Signore Di questi tuoi doni Grazie di quello Che tu fai per noi E le cose Che ci metti in bocca Nel cuore Nella mente Se tu che Mi hai ascoltato Qualcosa da oggi Che ti ha colpito Ti prego Di seguirmi Nel tuo cuore In queste parole Grazie Signore Io voglio Bramare Di avere Parole di conoscenza Io voglio Che tu mi metti In cuore Delle parole Che possono Edificare Non soltanto Ma Aprire degli scenari Differenti Verso le persone Che sono di questa chiesa Che sono anche Al di fuori Di questa chiesa E mi metto Tutte le disposizioni Signore Io sono disponibile Ad ascoltare Quello che sono Le tue parole Quello che vuoi Che io dica Alle persone Che mi stanno a fianco Ti permetto Di essere fedele Nel momento In cui tu me le dai Di essere coraggioso O coraggiosa Di dirle Alle persone Con cui vivo Insieme Tutte queste cose Deve chiedere E te prego De tutto cosa Con il Signore Gesù Amen Amén Grazie a tutti 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 Grazie a tutti